e la sospensione dei lavori, a profittare della sospensione dei lavori per pubblicare delle foto in cui si vedono i banchi vuoti della minoranza come il resto dell'aula come il resto dell'aula in un momento di pausa per scrivere che mentre si parla di bilancio regionale i consiglieri del PD vanno al bar vergogna qui l'unica vergogna è quella che dovete provare voi a mettere delle cose del genere, non scotete la testa è una cosa inaccettabile allora il mio primo invito è a cancellarlo in secondo luogo a ristabilire un comportamento dignitoso e ci manca solo che vi lamentiate che venga denunciato questo fatto in quest'aula io invito il Presidente a tutelare i ruoli dei consiglieri l'abbiamo già detto più volte in più occasioni ma questa è la più grave questa è la più grave perché si approfitta delle sospensione dei lavori per mettere delle foto che non rappresentano i lavori dell'aula andiamo avanti grazie a tutti